Loro due si, l'altra dispersa è femmina e ha la sua età, non ci provare, non fare lo scemo a te, che è più grosso di te, lui ha cercato di dominarlo, Staschi gli ha detto non ci provare, lui è andato indietro e gli ha detto ma scherzavo, quando si è accucciato a quella maniera era dicendo scherzavo, l'occhio ha provato a dominarlo ma lui l'ha rintuzzato immediatamente, l'è venuto da me a dire ma perché? Guardalo, che ci vuoi riprovare, no? E' contento? Ehi, non ci provare sai? Mi ha puntato al collo, l'hai visto? L'occhio è perioloso, mi fai schiantare, mi fai un pari di biscotti ce li ho io, semola vieni qua, semola? dalla Disney? Allora dalla Disney, guarda tu, sì esatto, però gli sta bene, si si, ti saltisce proprio! Ciao semola! Fai bravo te eh! No Loki, è inutile che insisti! no 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 la navia no 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 siamo là no bravo lo sta chiamando lui che vuol giocare ma lui non ci sarà vieni qua vieni qua vieni qua